Europarlamentare Mariangela Adalzi, Movimento 5 Stelle, oggi a Varese per un duplice appuntamento e due novità. La prima è che Luca Paris aderisce al Movimento 5 Stelle, consigliere comunale, passato un mese fa più o meno al gruppo visto. La seconda è il sostegno alle donne e agli uomini che correranno per le future elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Dottoressa Danzi, qual è il valore aggiunto del nuovo acquisto? Il valore aggiunto del nuovo acquisto che porta a un'esperienza professionale e politica dentro questo gruppo straordinario di giovani donne e uomini di Varese della provincia di Varese, in un'ottica che è anche di prospettiva, anche in relazione a quello che è avvenuto con l'alleanza sulle elezioni regionali in Lombardia, dove appunto abbiamo fatto un accordo sulla base di punti programmatici quale l'ambiente, la salvaguardia della sanità, il potenziamento dei trasporti ferroviari che riguardano in particolare le problematiche di questa città e di questa provincia. Quindi Luca sarà insieme a noi presente in Consiglio Comunale e supporterà noi in questa campagna elettorale per avere una regione che abbia più rispetto per l'ambiente, per la salute e la sicurezza dei cittadini. Luca Paris, dopo tanti anni ha lasciato il PD, è stata, suppongo, una scelta sofferta, ma mi sembra di capire anche altrettanto determinata quella di aderire al Movimento 5 Stelle. Che cosa ti ha portato a questa decisione e soprattutto cosa succede ora in Consiglio Comunale a Varese? Sì, le ragioni di questa scelta sono ragioni prettamente ideali. Io ho trovato nei messaggi progressisti del Movimento 5 Stelle una vicinanza a quelle che sono le mie idee. Diceva Churchill che a volte è necessario cambiare partito per rimanere delle stesse idee. E quindi da questo punto di vista io ringrazio per le bellissime parole e per la bella accoglienza da parte del Movimento. Il mio impegno è quello appunto di portare avanti anche all'interno del Consiglio, quindi nelle istituzioni cittadini, ma anche nella città, quella spinta, quei valori che sicuramente faranno del bene anche all'amministrazione della nostra città.